Come hai visto oggi la tua prestazione, ma soprattutto quella della Roma che ha fatto la tua vittoria? Penso che abbiamo fatto una grandissima partita, potevamo fare più di due gol nel primo tempo, per fortuna abbiamo trovato il terzo nel secondo perché già sapevamo quello che aveva successo a Cagliari, che con due gol non potevamo molare niente, loro erano una grande squadra che arrivavano in un buon momento e per noi non era semplice, quindi è una partita e sono tre punti fondamentali. Poi per me era molto emotiva per tutto il periodo negativo che ho vissuto, quindi sono molto contento. Ecco Diego, come hai visto a Bollercampo, la Roma nel suo stagione, come ti sei fatto con questo periodo negativo che ho fatto? Penso che come sempre quando i risultati non vanno tutto torna difficile, ci sono stati partiti in cui non meritavamo di non prendere i tre punti, abbiamo fatto partiti in cui magari non siamo riusciti a chiuderla e per questo non troviamo la vittoria. Oggi siamo stati in un momento difficile come quello di oggi, con i risultati della Lazio, il pareggio dell'Atalanta contro la Juve, non era semplice, invece abbiamo fatto una grande prestazione con una squadra che arrivava in un buon momento e quindi quello deve essere un punto di partenza per noi. Diego, pensi che la crisi sia finita? Quello, come ho detto, lo dicono i risultati. Non possiamo pensare che per aver vinto oggi è tutto risolto, manca una partita prima di finire il primo girone, quindi dobbiamo continuare a vincere, dobbiamo rialzare la classifica, però penso che facendo cose come quella di oggi i risultati arriveranno. Diego, ci racconti la risultanza che hai fatto con la corsa sotto la Suve? No, per me avevo tanta energia dentro, poi quelli 3-4 minuti che ho aspettato fino a che l'arbitro ha deciso di dare il rigore, una maniera di togliermi quel nervosismo, veramente che aspettare lì in quel momento è molto brutto e poi avevo bisogno magari di quell'abbraccio ai miei compagni e soprattutto sotto la nostra curva che è importante. Grazie ragazzi.